La lunga città della lontana, la lettera di un giorno, ma ti posso schiacciare? E secondo me è qua per due ore? Sì, non fa. Non stai in bambino. Ehm. E secondo me è qua per due ore? Perché ti stanno prendendo? Sì, non fa. Ma io voi stai a fare un lavoro qua. E poi mi ha perso, perché non hanno una volta. Buongiorno, c'è l'antanino. una scoperta straordinaria siamo nel termopolio della Reggio Quinta si era iniziato a scavare due anni fa avevamo intercettato solo un lato del bancone tra l'altro molto bello con una nereide che cavalcava un cavallo marino credo in omaggio alla fontana antistante perché questo termopolio si apre su una piazzetta fra le più suggestive di Pompei e adesso cominciano le analisi per capire che cosa c'era nei contenitori che cosa si offriva quello che i passanti in questa piazzetta di Pompei potevano qui acquisire le bevande, i cibi quindi veramente uno spaccato straordinario sulla dieta mediterranea che avremo fra poco appena saranno terminate le indagini di laboratorio grazie a tutti 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 grazie a tutti